Salve a tutti, con questa piccola guida utilizzando i software di Sode Linux utilizzando Raw World e Sankore mostrerò come è possibile costruire una frase in video, in audio e per immagini e poterla farla giocare al bambino con il touch sulla lavagna interattiva o su un computer touch e per fare questo ho bisogno di tre programmi, Raw World per scrivere per immagini, Audacity per registrare l'audio che mi servirà per fare i file audio da associare alle immagini e di OpenSankore o OpenBoard come sarà nel nuovo su di Linux per associare immagini e suoni, questo è Sankore. Vediamo come fare, allora prima di tutto ho fatto questi file audio con Audacity, ecco questo è Audacity, la mamma è bella e ha una camicia rossa ecco con Audacity è banale fare i file perché dopo averli registrati con la voce si esportano in mp3 ecco io ho esportato tutti questi file mp3 e adesso ve li faccio vedere e sentire quindi Audacity è un programma eccezionale per gli mp3 taglio, incoglio, cuccio come un elaboratore testi solo che elaboro l'audio adesso lo chiudo perché non mi serve e vi faccio vedere i file audio che ho fatto eccoli qua se volete vedere e sentire cosa succede la mamma è quindi questi sono tutti i file audio adesso io non faccio altro che scrivere questa frase qui con la reward e importare in Sankore la mamma è bella non mi piace questo bella vediamo se c'è qualcosa di meglio eccolo qua bella e ha anche questo lo voglio a colori non qui non spiego reward non c'è una diversa va bene e ha una camicia vediamo se c'è la camicia da donna no rossa ecco io avrei potuto inserire la foto della camicia della mamma così ma non mi interessa spiegare Sankore mi interessa far vedere che questa frase io la posso far diventare una frase di Sankore mobile e il bambino la usa con il touch vediamo come fare allora apro Sankore e sotto ho bisogno di avere a Sankore e sotto a Sankore a reward perché catturo la stringa intera con il cattura video e in porta in Sankore catturo e voilà catturata la stringa è diventata una stringa comunicativa di Sankore è intera però non sono pezzi separati e non c'è il file audio associato e questo è il primo step poi con il taglia immagine me la taglio un pezzo alla volta tacchete uno la ne prendo un altro mamma ne prendo un altro quindi io separo e mi importo pezzo a pezzo i pittogrammi vedete che poi associerò ai vari file audio e quindi il pittogramma il divertimento del bambino può diventare associare il file audio al pittogramma adeguato per vedere se ha capito quali sono oppure il gioco può essere collegare già il pittogramma al suono e farli parlare in sequenza quindi il bambino sposta o la bambina il pittogramma che parlerà e dirà quello che c'è sotto io non ho ancora importato i suoni adesso che ho finito la bene allora ho finito questa operazione se voglio mi rimpicciolisco i pittogrammi semplicemente selezionandoli vedete basta selezionare e rimpicciolire la stringa quindi posso andare così però la voglio fare grande allora adesso però ho deciso di fare più attività quindi duplico questa diapositiva si duplica ma io lo frego mostro desktop eccolo qui la seleziono tutto contro c pagina nuova contro di ecco che il titolo di pagina che era indeformabile è diventata la pace adesso in questa pagina la duplico e la duplico più volte perché mi serve per le attività allora questa attività l'assoccio alla frase intera e questi li butto via tanto ha già fatto le copie la le buttati via adesso mi devo importare i suoni perché sennò non funziona allora san corè ha fatto il suo servizio scusate raward lo butto via adesso mi importo tutti questi suoni qua dentro san corè semplicemente apro la cartella audio e mi porto dentro la cartella se mi va bene e se non mi va bene vediamo la importata no allora devo portare i suoni una volta solo che qua c'è un bel po e si mescoleranno insieme agli altri avrei dovuto fare una cartella e per fare una cartella avrei dovuto aprire la cartella spegnere san corè aprire la cartella la cartella home nella cartella home avrei trovato euro audio non nella cartella a immagini infatti non lo riconosce faccio una cartella la chiamo la mamma e qui dentro metterò i suoni la cartella o la cartella documenti di windows apro questa cartella importo tutti i suoni che ho preparato che mi servono per questa attività eccoli li adesso li ho importati nella cartella documenti di windows o home di suoni linux cts musica san corè la mamma adesso funzionano le cose anche nel fare i video bisognerebbe preparare il meglio e questa è la situazione quindi io nella cartella audio e adesso c'ho la cartella la mamma con i miei audio che parlano mi apro il documento che avevo fatto che avevo fatto eccolo qua perché comincia a importare i suoni allora apro il documento questa è la frase intera la mamma è bella e ha una camicia rossa fantastico allora questo funziona lo metto lì e il bambino ha la frase e i suoi suoni adesso associeremo nel documento successivo la ogni suono ha un oggetto così il bambino avrà la possibilità di questa per esempio adesso non mi serve la butto via associeremo la a la mamma a mamma è a è bella è così e lui potrà giocare spostando potrà fare dei giochi associando i suoni alle immagini oppure costruire le frasi perché i suoni e immagini sono associati in modo stabilito vado a vedere cosa vuol dire bella allora bella aggiunge la pagina bene allora io adesso questa box qui lo attacco a bella siccome grande lo faccio piccolo come bella eccolo lì lo metto lì lo metto lì sotto e seleziona le due cose raggruppa adesso questo box qui parla adesso ho associato ad ogni suono ad ogni scusate pittogramma la mamma è bella a parte che questo è un po' grandino la bene e ha una camicia rossa quindi io posso ascoltare la mamma è bella e ha una camicia rossa bene come vedete io posso associare fa costruire un bel gioco e associare e combinare la frase con i suoi pittogrammi con le dita su un tavolo interattivo touch costruire una frase che parla che parla e insegnare la coerenza della frase perché non solo metto a posto i pittogrammi però li posso mettere a posto con il loro suono quindi questa è tutta la mamma è bella ecco e oppure il gioco può essere quello di associare i suoni adesso io copio tutto in una pagina nuova faccio ctrl c pagina nuova ctrl ctrl v e separo questi qua bene adesso sono separati il gioco può essere anche quello chiamiamolo gioco perché è un'attività che si può vedere sotto forma di gioco separa 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 e separa bene adesso sono disaggregati però posso mettere nella riga superiore i suoni e quindi far diventare gioco questa questa azione qua quindi mettere i suoni di sotto e pittogrammi di sopra la mamma è bella e ha una camicia rossa bene questa è la frase aspetta qua perché non si muove e il bambino o la bambina può giocare a combinare mettere in ordine le frasi aspetta qua perché ognuno di questi insomma questi simbolini sono sono dei suoni che lui deve spostare per mettere in ordine perché adesso per esempio vediamo cosa abbiamo fatto vedete il gioco può essere mettere in ordine queste cose per aiutare il bambino potrei fare dei separatori e da sopra sotto combinarli quindi le attività che si prefigono in questa possibilità di San Corè e Raward sono veramente tante la mamma è bella e ha una camicia rossa ovviamente l'attività finale è quella di avere una pagina dove il bambino lavora solo con i pittogrammi oppure piano piano può arrivare anche la retroscrittura questo per dimostrare come le attività di San Corè e Raward e Audacity utilizzate mescolandole fra di loro sono molto importanti e permettono anche di avere un programma di scrittura facilitata da immagini e suoni con San Corè e Raward quindi per le guide di Sodilinux direi che questa attività è abbastanza interessante devo anche ringraziare la insegnante di Cosenza un posto dove sto facendo un corso di aggiornamento sull'open source che facendomi la domanda ma come può fare un bambino a spostare i pittogrammi e metterli al loro posto mi ha stimolato questa soluzione che io adesso vi ho mostrato e che usando il mouse è proprio quella che mi ha chiesto lei spostare le cose con le dita per costruire frasi io ci ho aggiunto anche i suoni quindi questa io direi è un'attività di tutto rispetto che può essere costruita con i bambini e messa a disposizione proprio per imparare l'uso dei pittogrammi ovviamente conoscendo Raward questi pittogrammi possono essere sostituiti dalle immagini della vera mamma dalle immagini della vera camicia e quant'altro quindi per le guide di Sodilinux, San Corè, Raward e Audacity messi insieme Francesco Fusillo e divertitevi con queste attività e con i vostri ragazzini che hanno la difficoltà di comunicazione Grazie a tutti